Andare a scuola per gli studenti delle superiori residenti a Garlate e Pescate è diventata una vera impresa. I ragazzi spesso restano sulle banchine perché gli autobus non si fermano o sono troppo affollati. I sindaci Beppe Conti, Dante e De Capitani si sono rivolti al prefetto denunciando la gestione, a loro dire carente, da parte del concessionario. La società arriva al prefetto, spiega De Capitani, abbiamo manifestato il fatto che i nostri ragazzi molto spesso vengono lasciati a piedi alle fermate e tengo a precisare che pagano 297 euro l'anno di abbonamento. La società arriva, prosegue De Capitani che gestisce il servizio, rispondendo alle mie lamentere ha scritto che hanno programmato un autobus con maggiore capacità ma i nostri ragazzi rimangono in strada lo stesso. I tagli alle corse però ci sono stati, hanno cassato il bus in partenza da Garlate alle 7.17 verso l'Eco, continuo dei capitani che lo scorso anno contribuivano a migliore distribuzione dagli studenti, anche di Pescate, hanno cassato pure il bus che partiva dall'ecostazione alle 7.35 verso Gabbiate in transito a Pescate costringendo alcuni lavoratori a prendere l'auto per non arrivare tardi. Trovo inaccettabile che si tolgano delle corse in questo modo senza sentire prima i sindaci interessati. Una situazione che non può proseguire per il primo cittadino di Pescate. Chiederò all'Agenzia del Trasporto Como Sondrio e Varese di Chiara dei Capitani di affidare il servizio degli autobus di Pescate a linea Lecco. Conosco la professionalità aziendale e l'attaccamento al territorio del presidente Mauro Frigerio e del direttore Salvatore Cappello. Pescate dista due chilometri dal capoluogo e basterebbe allungare un po' col percorso della linea che già fanno per soddisfare anche le nostre esigenze. In più ho avuto modo di visitare la loro azienda. dei loro autobus sono grandi, ben tenuti e molto accoglienti. Sono sicuro, conclude dei capitani, che con loro tutti i nostri studenti arriverebbero a scuola in perfetto orario e magari pagando anche meno di abbonamento.